Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. In A1 in direzione Roma rallentamenti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e Firenze in Pruneta. Sempre verso Roma rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Spostandoci sulla FIPILI rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Per quanto riguarda i treni a causa di un principio d'incendio tra Tombolo e Livorno i treni potranno subire ritardi, modifiche o cancellazioni. La circolazione è interrotta sulla linea. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!